Si parla di Mediterranea, si parla di Slow Food, Cavallo insomma un appuntamento, questo sempre più importante, che vi vede protagonisti in questo caso? Sì, ovviamente la protagonista principale è la Camera di Commerce Chiedi Pescara che porta avanti questa manifestazione da molti anni. Noi da qualche anno diamo una partnership, che ci sentiamo in dovere anche di essere presenti e vicini allo sforzo camerale, che è importante per tutto il territorio. Mi auguro che sempre più le imprese abruzzese dell'agroalimentare, parlo soprattutto di quelle piccole chiaramente, che hanno bisogno di farsi conoscere e di promuovere quello che fanno, siano sempre più presenti. È importante capire che da questa esperienza qui al porto di Pescara può partire un importante momento di promozione e valorizzazione di tutto l'agroalimentare abruzzese, di qualità, che può andare ben al di fuori dei confini in cui siamo. Per cui c'è bisogno che le aziende siano sempre più convinti, partecipi di questa manifestazione. Io ho la sensazione che ancora troppi attori snobbino questi appuntamenti e fanno male sostanzialmente, perché invece c'è bisogno di esserci, di farsi conoscere, di fare rete, perché poi la Camera di Commercio fa ben altro che Mediterranea e quindi accompagna le aziende al di fuori dei confini regionali in tante iniziative, in tante manifestazioni fieristiche. Però è bene costituire un nucleo qui, che parte da Mediterranea, coeso, che poi possa andare fuori regione.